Il Mediterraneo è la vista, perché il panorama che offre questa parte del mondo è forse la vista più bella che noi possiamo ammirare. Ma dobbiamo fare in modo che questa realtà non venga rovinata né dal cambiamento climatico né da guerra e soprattutto non vorremmo vedere un Mediterraneo che si trasforma in un cimitero di esseri umani. Grazie